Auguro all'Armenia un futuro di giustizia e di pace perché è un popolo coraggioso che ha portato tante croci nella propria storia, ma pur facendo della resistenza una seconda pelle, una pelle di pietra, non ha rinunciato al cuore tenero di una madre. Sono parole intrise di ammirazione, quelle che Papa Francesco ha pronunciato per il paese caucasico a conclusione del suo quattordicesimo viaggio apostolico. Le domande dei giornalisti sul volo iere van a Roma hanno spaziato su vari temi di interesse internazionale, primo fra tutti l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Esprimendo preoccupazione per l'area di divisione che soffia sul vecchio continente il Pontefice ha precisato che l'unità è sempre superiore al conflitto come la fraternità è migliore dei nemicizi e delle distanze. Lui è chiamato allora a ritrovare la forza delle proprie radici sforzandosi però di fare un passo creativo e fecondo. Con spontaneità e trasparenza Papa Bergoglio ha parlato del sinodo panortodosso delle cosiddette diaconesse, chiarendo che il pensiero delle donne è più importante della funzione che svolgono e che bisogna interrogarle prima di prendere una buona decisione. Ed ancora, di Benedetto XVI, il Papa è merito e non un secondo Papa, un uomo saggio e coraggioso, un uomo di Dio che sostiene la Chiesa con la preghiera, fino al prossimo viaggio in Polonia e poi in Svezia per i 500 anni della riforma.